Votare a 16 anni? Votare a 16 anni secondo me è molto importante, dare già una responsabilità ai ragazzi che possono iniziare a interessarsi ancora più da vicino della cosa pubblica, con un diritto del voto, il diritto fondamentale, quindi io penso che sia un bel passo in avanti del Paese.